Stefano Grigoletto, Forza Italia Padova, ecco lei ha ascoltato le istanze dei commercianti del centro storico di Padova e qual è la sua impressione? Che sono le stesse istanze da dieci anni, voglio dire la ZTL è una trappola mortale per gli automobilisti che devono arrivare in centro e quindi il raggiungimento dello stesso è altamente compromesso. I parcheggi a ridosso del centro storico non sono stati fatti, è stata riempita la città solo di dossi dissuasori e spicci ciclabili, se ci aggiungiamo poi le imposte quasi più alte del nord-est come comune e ci aggiungiamo il degrado, voglio dire è chiaro che il disagio ormai è sotto gli occhi di tutti. È necessario darsi una mossa quindi? È necessario ormai cambiare amministrazione, chi si propone sindaco uscente a dire le stesse cose che aveva dovuto fare da dieci anni ormai non è più credibile.